Il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha partecipato ieri alla campagna Io sono Plastic Free del Movimento 5 Stelle sul litorale sarenitano, in particolare sulla spiaggia di Eboli. Iniziativa che si estendeva dalla costiera amalfitana fino a Sapri, che ha coinvolto migliaia di cittadini. Un'iniziativa piena di passione per l'ambiente e di senso civico. Il messaggio è quello che la plastica usa e getta deve essere abolita dall'uso quotidiano, perché è dannosa per tutti. Ci sono alternative altrettanto comode all'usa e getta, ma che non danneggiano niente e nessuno.